Che cosa l'ha convinta a puntare sull'ex tecnico di Catanzaro e Bari? Ma io veramente devo dire la verità, abbiamo ragionato insieme al direttore di diversi profili. Pescara è una piazza che comunque viene da 12 anni di calcio tra A, B e A, e quindi c'era bisogno di portare un allenatore che avesse comunque un curriculum, per lo meno per la categoria, è importante e credo che il mister risponda a queste caratteristiche e poi soprattutto a me piace molto perché è un grande lavoratore sul campo ed è un qualcosa dal quale noi abbiamo sempre ottenuto tanto. Il lavoro, soprattutto nello sport, paga sempre, quindi speriamo che anche quest'anno porti bene e soprattutto che si possa ripartire con il piede giusto perché veniamo purtroppo da un anno e mezzo disastroso.